Ci Repubblica Ceca contro Kuwait Siamo al secondo minuto Subito in avanti la Repubblica Ceca La parata e poi il gol di Marek Hainz Il numero 17 Ottimo l'inserimento da parte di Kuserat La parata di Cancone E il tap-in Di Marek Hainz La reazione del Kuwait con il numero 9 Abdulaziz, che occasione Che occasione per il Kuwait Ma ancora la Repubblica Ceca in avanti E il palo colpito dal numero 10 Thomas Kussera Ancora Kuwait Si salva come può il portiere Ma poi c'è il gol di Almutari Esultanza Tumultuosa della panchina del Kuwait Il tocco da parte del portiere Petrus Poi va a ribadire in rete Almutari Al cinquantaseiesimo Per il pareggio del Kuwait Che adesso scatenato Parte il contropiede Tre contro due La palla per Saïed Il gol del vantaggio Incredibile Incredibile I salti di gioia Di Avramovic Un contropiede da Manuale La palla che arriva Saïed E il gol Del 2 a 1 Ancora un palo per la Repubblica Ceca Sfortunata in due circostanze Ma il Kuwait preme in vantaggio per 2 a 1 E qui sta palla a tre quarti campo Che gol Di Saïed È il 3 a 1 Incredibile Kuwait Spalla alla porta Si gira Vede il portiere Leggermente sbilanciato E fa un gran gol Adesso rischia tutto per tutto La Repubblica Ceca Che trova il gol al novantunesimo Con Langeiel Ma finisce con la vittoria sorprendente Del...